Agragas ad un passo dalla Lega Pro, qual è il futuro di Davide Baiocco? Non lo so, intanto pensiamo a regalarci questa vittoria matematicamente già la domenica e poi speriamo che la società voglia fare quello che stiamo facendo oggi, crescere e migliorare non solo nel campo ma a 360 gradi, siamo qui anche per questo quindi il mio contributo è sul campo e spero anche fuori